Casa dello studente a Chieti, in questo caso il Comune metterà a disposizione due edifici e poi ci servirà qualcuno che lo gestisca ma si chiede alla Regione di mettere a disposizione dei fondi? Sì, un progetto complesso ma anche molto ben ormai strutturato. Il Comune metterà a disposizione due immobili per oltre 12.000 metri quadrati di disponibilità dove realizzare due case dello studente nel centro storico. La Regione dovrà finanziare la progettazione e l'Azio avrà il compito di presentare una richiesta di finanziamento al Ministero dello Sviluppo e della Ricerca perché ci sia la possibilità di recuperare queste due strutture. Noi siamo molto fiduciosi perché fino ad oggi l'Abruzzo ha perso occasioni nella possibilità di intercettare questi fondi. Quindi questi fondi ci sono, sono fondi regionali, cioè nel senso che sono assegnati alle regioni italiane da parte del MIUR. Noi abbiamo un buon progetto perché integriamo benissimo quella che è la richiesta di recupero di immobili, recuperiamo due immobili comunali, la richiesta di nuova offerta nella Università di Chieti via poca residenza universitaria e soprattutto creiamo un circolo virtuoso tra università, centro storico, trasporto e ovviamente nuova residenza. Questa operazione è importantissima, sarà cofinanziata dalla regione con 440 mila euro già messi in bilancio e con il valore proprio dei due immobili perché il Ministero finanzierà il restante 50%. Perché è importante questa operazione? Perché consentirà alla città di Chieti di rivitalizzare il proprio centro storico che oggi non è propriamente vitale e perché consentirà agli studenti che si iscriveranno, che si vorranno iscrivere all'Università di Chieti di poter avere, di poter godere di una casa dello studente, rendendo quindi anche più attrattiva la nostra Università d'Annunzio.